Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video sono presenti tutti i collezionabili che è possibile raccogliere in questa zona e sono tutti posizionati in ordine cronologico in modo che possiate raccogliere il tutto mano a mano che avanzate nella zona o nel gioco. Buon proseguimento! Torniamo da Chaurly? Sì. Non sarà felice di vedermi? No. Ciao Chaurly. E questo è quanto ragazzi. Grazie a tutti per la visione e vi auguro una buona giornata.